In occasione del 45esimo anniversario di attività dell'Inter Club di Lanciano, primo club storico d'Abruzzo e tra i più longevi d'Italia, è stata ideata un'iniziativa volta a finanziare un progetto umanitario in Togo. Tutto questo grazie a una commedia teatrale che si terrà il 23 febbraio e il 2 e il 28 marzo al Teatro Fenaroli di Lanciano. Ascoltiamo il regista Antonio Primomo e uno dei protagonisti Camillo del Romano. Tutto l'incasso sarà devoluto per un orfanotrofio che si trova all'OME in Togo. In pratica noi andremo direttamente noi del club lì l'11 marzo, abbiamo comprato i biglietti tutto a posto, andremo lì e quindi andremo a consegnare materialmente il ricavato di queste serate. Si tratta di una struttura veramente che hanno bisogno di tutto, questo orfanotrofio. C'è un padre, un prete di Lanciano, Don Nicola, che sono anni che si sta occupando di questi ragazzi e quindi mi è molto in mente quello di fare della beneficenza per questi ragazzi. Due brevici anni alla commedia, una commedia che ho scritto io, una cosa molto divertente, una commedia dialettale. Ricordiamo il titolo? Sì, che si chiama Senza quatrine, Nzikande messe. E ho messo insieme un cast molto variegato. Ci sono degli attori un po' più conosciuti, con esperienza teatrale, altri addirittura la prima esibizione, quindi ragazzi veramente che sono molto emozionati ma che hanno sposato in pieno questa causa. C'è una terza data che si è aggiunta quando? Perché le richieste sono state tantissime, quindi giovedì 28 marzo, sempre al Teatro Ferraro di Lanciano, al costo di 10 euro, c'è la possibilità di poter assistere a questo spettacolo che spero faccia divertire perché il nostro scopo è ridere un po'. Oggi sono solo però porto il cuore di tutti quanti, di tutto il cast, devo salutare alcuni dei nostri più importanti che c'è Giuseppe Ditone che è il protagonista insieme a Franco Solla, c'è Bruno Stella, poi abbiamo anche dei personaggi un po' importanti di Lanciano, c'è Francesco Kingo Paone che è uno dei ragazzi più seguiti perché è il ruggito del frentano. Poi c'è Gino La, Parini, poi abbiamo un ragazzo speciale che è Cristian Cappellone che fa delle imitazioni, un cantante, uno showman a 360 gradi e poi abbiamo anche altri personaggi, c'è Daniela Prosini, Giuliana Fedele, abbiamo Roberto Natarella, poi abbiamo la nostra chicca che è Martina Primomo che è la figlia del regista che è una ragazza stupenda. In scena il 23 febbraio, il 2 e il 28 marzo al Fenaroli di Lanciano.